visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator xuderone e adesso video andiamo allora a vederlo questo deck ragazzi per raggiungere le 6.000, 6.200 hog rider, fireball, moschettiere, mini pecca, mascalzoni, zap, mago di ghiaccio e tronco non è un deck da meta diciamo che dopo i 6.200 si fa un po' fatica a scalare con questo però vi può permettere di arrivarci e vi spiego un attimino qualche meccanica in questa situazione di start si apre sempre dietro la torre con una carta lenta e che possa colpire dalla distanza in questo caso moschettiere oppure mago di ghiaccio era indifferente andiamo a togliere subito la principessa questo è il reale utilizzo del tronco aspettiamo perché lui entra con un attacco abbastanza importante noi abbiamo il mago di ghiaccio che ci può aiutare attenzione solamente perché c'è ancora da difendere il suo arciere pirotecnico potrebbe essere un problema lui gioca anche il fantasma decide veramente di giocarsi il tutto per tutto andiamo allora ugualmente con il nostro moschettiere peccato che abbia anche a disposizione i suoi scheletri oddio non mi ricordo bene il nome correttamente ma cerchiamo di evitare l'attacco dell'arciere pirotecnico ripartendo con log rider anche se la fuorileggia alloccato non è assolutamente un problema qui log può tirare due legnate come vedete addirittura tre quindi porta la torre di sinistra a 2.516 vediamo se farlo entrare oppure no attenzione a princess io decido di giocarmi il tronco per evitare il danno lui potrebbe giocare una princess sul ponte vediamo un attimo come decide di aprire intanto recuperiamo elisir senza problemi molto difensivo il suo deck le reclute maxate splittate dobbiamo stare attento di solito potrebbe avere un fulmine in una situazione del genere esatto eccola lì la princess serve obbligatoriamente una soluzione perfetto che riusciamo a spostare una recluta abbiamo purtroppo i danni del fantasma ma se lui va a difendere a sinistra con spirito del fuoco e arciere pirotecnico noi possiamo attaccare scusatemi a destra noi possiamo attaccare a sinistra con log rider che è abbastanza incisivo in questo attacco forse ne entrano quattro sono danni importanti sono danni importanti qui andrei a strutturarmela in questo modo lasciando anche che il mago di ghiaccio mi dia un supporto per il counter dei barbari scelti e della fuorilegge non esagererei con l'attacco quindi continuiamo da dietro con il moschettiere vediamo cosa decide di giocare lui per counterare era quasi scontato giocasse le guardie attenzione perché c'ha gli scheletri bombardosi che sono molto molto violenti non ne entra neanche uno 386 qui siamo quasi a portata potremmo giocare i tre spell entrambe le torri sono messe male per lui vediamo di obbligarlo ad andare a counterare log rider che può scattare senza nessun problema arriva una legnata arriva la seconda e andiamo a chiudere siamo già dentro con il secondo match contro Wawa nessun clan per lui siamo a 5.838 per lui noi siamo indicativamente credo sulle 5.870 apertura come sempre con il moschettiere da dietro a me piace aprire a sinistra strega per lui qui prenderei un attimo di precauzioni potrebbe avere un tank potrebbe avere un gigante quindi rimaniamo indietro apriamo anche con i mascalzoni e vediamo lui gioca il il gran cavaliere che però è troppo vicino alle truppe per andare a impensierirle e qua sfrutterei l'abilità del mago di ghiaccio e una bella fireball sulla sua strega per andare a pulire come vedete riusciamo ad accentrare il suo gran cavaliere qui eviterei anche che l'arciere pirotecnico attacchi invece purtroppo non mi è possibile non dovrebbe avere troppo ilisir quindi o grader di nuovo 1 2 3 adesso occio perché non abbiamo purtroppo truppe che fanno danno a zona disponibili quindi dovremmo salvare il moschettiere un attimino in questo modo e recuperare tutto l'elisir sperando che lui apra da dietro con la strega lui deve comunque counterare con un arciere magico subisce un paio di danni qua possiamo tranquillamente essergli grati perché il nostro moschettiere oltre ad essersi fatto l'arciere magico ci ha permesso anche di tirare una hit alla torre importante direi di fare una nuova apertura cercate sempre di aprire con le carte che costano meno in questo caso il mago di ghiaccio è un'apertura blanda io immaginando che lui voglia giocare di nuovo il Gran Cavaliere preparo Mini Pekka da dietro lui sta temporeggiando come potete capire scatterei a questo Fireball per togliere il problema dell'arciere pirotecnico e Mini Pekka che può tranquillamente andare a impattare nuovamente costringendolo a giocare Lorda Disgherry attenzione perché serve assolutamente che i mascalzoni facciano il loro lavoro intanto togliamo il Miner e qui io sarei pronto per per un attacco importante mettiamo l'oggrider un pochettino largo in modo che lui debba obbligatoriamente esatto giocarlo lì ma non può fermare anche il primo attacco va benissimo anche un attacco dell'oggrider andiamo di nuovo a infastidire e rimarrei sempre sulla sinistra in modo da evitare che il suo arciere magico possa attaccare la mia torre il problema dell'arciere magico è che ha un range d'attacco veramente molto molto alto lui è dentro di nuovo con il Miner ripartirei subito con l'oggrider dovrebbe giocare Lorda Disgherry ma qui subentrerà no oddio i barbari scelti non me li aspettavo la prima volta che li va a giocare non è comunque un problema mascalzoni ignoriamo l'arciere dall'altra parte scusatemi sì sì l'arciere pirotecnico non ci interessa il Minipekka va a counterare il suo Miner e attenzione evitare troppi danni dal suo stregone oddio non mi chiedete il nome che nome lo ricordo giocherà il non ce la fa non è l'Isir perché ha giocato giustamente la Valkyria ci porta la torre a 3.32 e qua tenterei il cycle del tronco che dovrebbe andare a segno senza troppi problemi andiamo con il tronco andiamo con il tronco e chiudiamo anche la seconda partita andiamo quindi a vedere l'ultima partita contro Dark Knight dei Made in England subito un'apertura cattivissima con la gang attenzione fortunato il tronco ad essere presente nelle carte iniziali ripartiamo sempre con il mago di ghiaccio da dietro potrebbe essere pallafoccato qualora lo pallafoccasse no questo purtroppo ha il vortice quindi siamo sicuramente in svantaggio giocherà il Gran Cavaliere davanti al Bojan e sono quasi certo obblighiamola a difendere lo Grider oddio questo no Grider a testa piccolo tip se riuscite a mettere con velocità il mini pecca a tre caselle dalla torre lo Grider non riuscirà a ittare andiamo avanti intanto con il mini pecca lui sta giocandosi un pochettino il tutto per tutto per andare a counterare il mio povero mini pecca e qua io tenterei un cycle sullo Grider andando a spendere il nostro tronco in questo modo e poi giocando lo Grider appunto in maniera aggressiva e offensiva avanti ancora è stato obbligato a zappare spostiamo la Valkyria centrale o Grider che è riuscito ad entrare in maniera molto molto incisiva qua purtroppo anche il suo Grider sarà un bel problema per noi che saremo obbligati a counterare quindi cerchiamo con il mini pecca con il moschettiere di limitare il più possibile i danni siamo lì siamo lì siamo lì non vorrei sprecare la zap quindi andiamo con il mago di ghiaccio possiamo subire qualche danno senza preoccuparcene troppo lui addirittura decide di andare a pallafocare il mio mago di ghiaccio ci promette quindi di avere un attacco pieno del moschettiere che lascia anche aperta la strategia sulla sinistra per potergli fare la torre continuiamo a recuperare attenzione adesso che siamo pieni di spell lui ha la tesla in questo caso io splitterei mascalzoni è una giocata che non si fa spesso però avere sempre una truppa anche di là potrebbe essere rivelarsi utile io spingerei con lo grader il mini pecca lui gioca la tesla ma noi il mini pecca davanti la gioca molto indietro invece la tesla quindi giocata assolutamente utile ma ci permette ugualmente di tirare ben due legnate con log rider e tankiamo un attimino qua il suog con il mio mini pecca ripartiamo subito ripartiamo molto rapidamente molto molto rapidamente attenzione alla gang o alla tesla ecco che arriva la gang in questo momento ma c'è il mago di ghiaccio che può toglierla insieme alla zappa 773 una torre 940 anche l'altra sua torre andiamo con il mago di ghiaccio attenzione che lui potrebbe aprire tra poco subito via la la sua orda ha un po' rischiato 765 381 due pushate del log rider e andiamo a chiudere insomma ragazzi questo deck a me piace tantissimo ve l'ho detto si arriva fino ai 6.000 6.200 massimo si droppa anche fino a 5.9 indicativamente provatelo fatemi sapere qui sotto i vostri commenti che c'è un po' rischiato che c'è un po' rischiato